Ben trovati all'ascolto del nostro telegiornale sul canale 85 del Digitale Terrestre e anche sulla pagina Facebook Tris Siracusa. Oggi apertura dedicata alla giornata mondiale contro la violenza alle donne. Noi abbiamo ascoltato il capitano dei carabinieri, il capitano Lanzara, che ci racconta degli interventi, degli innumerevoli interventi nei confronti delle donne per tutelarle, salvarle durante appunto momenti di tensione che gli stessi carabinieri vivono e poi insomma accolgono anche i racconti delle donne vittime di violenza. Sentiamo il servizio. Sono tante le iniziative che si sono tenute questa mattina in concomitanza della giornata mondiale contro la violenza alle donne. Sono stati tanti gli appuntamenti nelle scuole ma anche nei teatri e al Palazzo di Giustizia. In primo piano le associazioni antiviolenza che pongono l'attenzione sull'accoglienza e la successiva assistenza psicologica illegale delle donne che decidono di denunciare i loro aguzzini. Anche le forze dell'ordine sono impegnate quotidianamente non solo a reprimere ma soprattutto a prevenire il fenomeno dei maltrattamenti, dello stalking e delle violenze ai danni di persone fragili. Nel nostro territorio si verificano spesso casi che insomma fanno sì che la nostra attenzione debba essere sempre alta e non debba mai calare. Serva tanto aggiornamento. Questo è un dato che ho riscontrato. Nella bellezza del territorio purtroppo si trovano anche tante cose tristi dal punto di vista della popolazione. Tante situazioni molto difficili da poter gestire. Ci sono stati dei casi sporatici di apertura della stanza. La stanza ripeto è sempre disponibile, si sta all'interno della compagnia, si sta valutando la possibilità di un'eventuale apertura di un'altra stanza nella zona ancora più meridionale della compagnia proprio perché in quella zona lì l'incidenza del fenomeno è più alta. Più alta l'incidenza del fenomeno quindi per dare un maggior segno di vicinanza. L'intenzione è quella, bisogna valutarne insomma la fattibilità ma c'è tutta la volontà di essere vicini per quanto possibile alle vittime di violenze. Per vedere l'intera intervista del Capitano Lanzara dopo il telegiornale andrà in onda lo speciale informare dedicato proprio alla giornata di oggi contro la violenza alle donne. Quindi il direttore Francesco Lani ha intervistato il Capitano e poi la puntata sarà dedicata anche alla dichiarazione di Emanuela Petruzzelli, donna vittima di violenza. E proprio su di lei il prossimo servizio che andremo a vedere, urla da anni Emanuela, donna vittima di violenza, urla per chiedere fatti concreti, aiuti concreti per le donne vittime di violenza. Lei ha denunciato ma poi è stata abbandonata dalle istituzioni e quindi quello che urla ancora oggi è proprio l'attenzione da parte delle istituzioni. Sentiamo. Processi più brevi, con danne più severe verso i carnefici e totale sostegno concreto da parte dello Stato per le donne che vogliono rinascere. Inutile fare la giornata contro la violenza, esporre scarpe rosse e installare panchine se poi non si attuano riforme e si agisce nell'immediato per bloccare il tragico fenomeno del femminicidio. Non deve essere la donna a scappare ma l'uomo violento ad essere bloccato. Sono parole di una donna che ha subito violenza di tutti i tipi, una donna che è stata ad un passo dalla morte dopo la denuncia abbandonata dalle istituzioni sola con una figlia e chi più di lei può sapere cosa davvero è necessario attuare. Una vita di violenza quella di Emanuela Petruzzelli esiliata dal suo paese pugliese. Perché noi dobbiamo essere esiliate e subire un percorso di antiviolenza quando noi l'abbiamo subita? Unica salvezza scappare dalla quotidiana violenza del marito che aveva anche progettato come ucciderla. Mio marito quando sono uscita dal centro antiviolenza ha dichiarato su facebook sto preparando la gozzina della tale della misura giusta per te e impara a non lasciare tracce sulla neve. Tutelata da Corrado Di Rosa, ex poliziotto, Emanuela inizia la sua lotta per avere giustizia ma oggi urla ancora la necessità di attuare leggi dure per i carnefici e percorsi più concreti per aiutare davvero le donne vittime di violenza. La violenza sulla donna è tutti i giorni, non è solo il 25 novembre, però poi quando tutto si chiude non rimaniamo ancora sole. A che cosa serve manifestare dal 25 in poi, spendere tutti questi soldi? Perché qui i soldi si trovano, giusto? Qui i soldi per manifestare una panchina rossa, programmi, ci sono, ci mancherebbe altro, sono sempre d'accordo, però perché poi questi soldi non vengono usati a livello umanitario per permettere fine al nostro dolore? Abbiamo diritto, come tutti gli altri, a una vita dignitosa. Io quello che chiedo oggi basta con tutta questa ipocrisia o questi aiuti economici che vengono chiesti allo Stato per far sì che i centri antiviolenza continuano il loro percorso, ma è la donna che ha bisogno di aiuto. Il momento in cui la donna denuncia, la donna ha bisogno di una tutela perché la donna fugge da un uomo che vuole ammazzarla. La donna ha i suoi figli perché siamo tutti a rischio, quindi una tutela pagata dallo Stato, esattamente come si fa per i pentiti, perché noi non siamo pentiti, però siamo vittime, non meritiamo forse ancora di più. Un pentito ha fatto qualcosa di sbagliato per arrivare ad avere la protezione. Non abbiamo fatto niente di sbagliato, abbiamo soltanto sbagliato ad amare l'uomo sbagliato. Restando sempre in tema di violenza, andiamo a parlare del vigile urbano aggredito ieri durante le sue ore di servizio. Stava per multare un'automobilista che era al telefono cellulare, ma poi è stato aggredito da un'altra persona. Esprimono solidarietà i sindacati e anche il sindaco Francesco Italia. Sentiamo di più. Nuova aggressione e danni di un agente di polizia municipale a Siracusa. L'episodio è accaduto in Corso Umberto. L'agente si è visto sferrare un pugno al volto di un passante che aveva assistito alla scena della multa che il pubblico ufficiale aveva elevato un automobilista perché sorpreso alla guida del mezzo mentre parlava al cellulare. Il primo a disapprovare il gesto è stato il sindaco Francesco Italia che ha espresso solidarietà al vigile aggredito. Gli ha augurato pronta guarigione con una prognosi di tre giorni e grazie quindi alla municipale per il prezioso servizio svolto ogni giorno per la nostra città. È un fatto gravissimo. Per l'ennesima volta siamo costretti a fronteggiare situazioni che vanno ben oltre il servizio quotidiano che svolgiamo per la cittadinanza. Questa la reazione da parte della UIL, funzione pubblica dopo l'aggressione al poliziotto municipale avvenuta in Corso Umberto. Ci troviamo di nuovo di fronte a cittadini, sottolineo il segretario provinciale Alda Altamore e il segretario organizzativo Corrado Caruso che non comprendono il servizio che si svolge ogni giorno. Al di là della solidarietà i due segretari della UIL, FPL, hanno aggiunto siamo sempre al cospetto di una città difficile da questo punto di vista, c'è un tessuto sociale stressato, noi abbiamo problemi perché è sottorganico, non c'è un ricambio generazionale e coloro che operano sono soggetti sempre a turni impegnativi. Se ci mettiamo anche situazioni di questo tipo diventa tutto più complicato e quotidianamente si mette a rischio anche il normale servizio ordinario. Da tempo, sostengono i due sindacalisti, abbiamo sollecitato dall'amministrazione comunale a trovare delle soluzioni immediate per risolvere il problema degli organici, ma evidentemente hanno altro per la testa. Nel prossimo biennio il corpo municipale sarà decimato ulteriormente e verrà più complicato assicurare anche i normali servizi. Secondo il decreto assessoriale regionale che determina i parametri per gli organici, solo come agenti ci troviamo sotto di ben 123 unità. La UIL quindi completa la nota, sostenendo che in questa situazione prendere le botte mentre si fa il proprio dovere ci sembra francamente eccessivo. Allearsi è opportunità alla ex Kindemi di Siracusa il varo del protocollo per quanto riguarda la dispersione scolastica. Un protocollo contro la dispersione scolastica sarà firmato mercoledì all'auditorium dell'ex istituto Kindemi di via Algeri. A sottoscriverlo saranno Prefettura, Comune di Siracusa, Tribunale per i minori di Catania, Procura, Retusea, Forze di Polizia, Ufficio Scolastico Provinciale, IMSS e Associazione Nazionale Magistrati. Il protocollo prevede la prevenzione della dispersione scolastica nel Comune Capologo e la piena attuazione delle funzioni di tutela dei minorenni e dei giovani adulti destinatari di provvedimenti giudiziari civili e penali. Il documento è finalizzato a condividere una strategia per la prevenzione della devianza giovanile e della dispersione scolastica, così ottimizzando la rete di protezione istituzionale e sociale a tutela del diritto di ciascuno alla piena realizzazione. Una vera e propria alleanza, quindi, con l'obiettivo di elaborare strumenti sempre più incesivi per la prevenzione di fenomeni che sono piuttosto diffuse nella nostra provincia, anche grazie alla costante analisi di un osservatorio istituito alla Prefettura di Siracusa. In una prima fase si procederà alla mappatura dei quartieri più a rischio, in modo da mettere a disposizione delle scuole interessate un apposito sportello per intercettare il disagio e svolgere la conseguente attività di supporto alle famiglie. Tra l'iniziativa la sensibilizzazione dei genitori sull'importanza del corretto adempimento dell'obbligo scolastico dei figli minori, con possibile decadenza, in caso di violazione, dal beneficio del reddito di cittadinanza. La sperimentazione partirà dal Comune Capologo per essere via via estesa all'intera provincia siracusana. Sono alte le percentuali di elusione del contratto provinciale edile in provincia di Siracusa. La denuncia è proprio del sindacato per quanto riguarda appunto la categoria degli edili. Le organizzazioni sindacali degli edili della provincia di Siracusa denunciano un'alta percentuale di elusione del rinnovato contratto integrativo provinciale edile che si applica a tutti gli impiegati operai del settore a decorrere dal 1 agosto. Intervenire diffusamente per consentire ai lavoratori di avere ciò che gli spetta di diritto è un dovere degli istituti vigilanza, spiegano i segretari di Fene, alla Fillea, Saveria Corallo e Salvo Carnevale, che stanno procedendo a una diffusa campagna informativa e un'altrettanta diffusa campagna in raccolta segnalazioni. Intervenire immediatamente, secondo il sindacato, per scongiurare un chiaro abuso nei confronti dei lavoratori che diventa duplice poiché gran parte dei lavori in esecuzione si fanno con soldi pubblici. Tra le voci principali il sindacato ha accolto l'elemento variabile della retribuzione che vale il 4% della retribuzione ordinaria, l'indennità di trasporto rivista e semplificata e l'indennità sostitutiva di mensa. L'ammontare complessivo è di una media che può andare a oltre le 100 euro di aumento mensile che si sommano ai consistenti incrementi legati al rinnovo del contratto nazionale siglato in marzo di quest'anno. Il sindacato sta preparando una segnalazione massiva agli istituti di vigilanza. Il fenomeno, secondo Corallo e Carnevale, sembra così vasto che non è necessario intervenire di fioretto ma basta un controllo a campione per evidenziare il diffuso abuso. È del tutto evidente come si stia producendo un effetto scoramento nella percezione della gente, vedere i controlli come un miraggio incentiva i furbetti e deprime chi pensa che questo fenomeno in netto momento non possa essere scardinato. Il sindacato sostiene di non volersi rassegnare a pensare che chi produce non debba essere disturbato soprattutto quando si assistono a un livello di elusione contributiva ed evasione fiscale. Un'operazione della Guardia di Finanza di Catania ha fatto luce su alcune aziende che introducevano nel territorio nazionale prodotti petroliferi per poi rivenderli senza IVA. Sentiamo il servizio. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, i funzionari dell'Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli hanno eseguito misure cautelari per un valore di 25 milioni di euro nei confronti di otto società, due ditte individuali e 13 indagati ritenuti a vario titolo responsabili dei reati di sottrazione all'accertamento al pagamento dell'accisa su prodotti energetici. L'operazione rientra nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura Europea di Palermo e riguarda le province di Catania, Palermo, Enna, Catanzaro e Reggio Calabria. L'indagine ha riguardato due distinti gruppi che avrebbero commercializzato prodotti petroliferi illecitamente introdotti nel territorio nazionale per la successiva rivendita a basso costo in evasione dell'IVA e delle Accise, gasolio, uso agricolo e miscele non autorizzate fraudolentemente destinati all'uso autotrazione. Un primo gruppo criminale avrebbe provveduto ad introdurre illecitamente ingenti quantitativi di prodotti energetici provenienti da Austria, Germania, Repubblica Ceca, Romania e Slovenia formalmente indirizzati a due depositi in provincia di Verona e Catania ma di fatto destinati ad altri siti etnei di stoccaggio gestiti dagli indagati, cedere a basso costo i carburanti a favore di imprese di autotrasporto e distributori stradali siciliani. La competitività dei prezzi praticati sarebbe stata assicurata grazie alla sistematica evasione delle imposte dovuti sui prodotti energetici, in particolare all'IVA, ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti e alla successiva presentazione di dichiarazioni fiscali infedeli. Il secondo gruppo criminale, invece con base operativa in provincia di Catania, avrebbe effettuato cospicui acquisti di gasolio a uso agricolo e prodotti energetici allungati con oli esausti di scarsa qualità presso tre distinti depositi commerciali di Reggio Calabria, Gioia Tauro e Palermo, per poi commercializzarli nella Regione Sicula senza versare le relative imposte. Le ipotesi investigative sono arricchite anche dall'esecuzione di specifici incontri sulla reale movimentazione dei prodotti energetici in ambito regionale che hanno portato al sequestro di oltre 125.000 litri di carburanti di illecita provenienza, mezzi e attrezzature utilizzate per il trasporto e lo stoccaggio della merce. Ci fermiamo per la pubblicità, ma vi aspettiamo ancora dopo per proseguire con ancora altre notizie durante la seconda parte. Spazio alla pubblicità dopo. Qualità, professionalità e tecnologia sono le caratteristiche che contraddistinguono Physiorem Medical Center, una struttura polidiagnostica con più di dieci anni di esperienza, specializzata in diagnostica radiologica e riabilitazione fisica che si serve di attrezzature e strumentazioni all'avanguardia. Il sistema di risonanza magnetica OpenMark 5000 rappresenta la nuova generazione di risonanza magnetica a medio campo. Questo sistema combina le elevate prestazioni dell'alto campo con il vantaggio di un'architettura aperta. Questo permette di ridurre sensibilmente la sensazione di ansia del paziente. Dotarci di questo macchinario ci permette di ampliare la domanda di esami diagnostici per quanto riguarda l'osso articolare. Adesso riusciamo a dare anche un'offerta per quanto riguarda la parte neuro. Physiorem Medical Center, la trovi a Siracusa. Dissalatori e depuratori d'acqua. Da 40 anni per la nautica, per l'industria, per la casa. Selmar is the way. Lo sapete mamma e papà? Con la detrazione fiscale il depuratore d'acqua costa la metà. Bentornati al nostro telegiornale, siamo nella seconda parte. È stato sventato il furto di 5.000 kg di arance. È accaduto la scorsa notte in Contrada Mottava. Sentiamo i dettagli. Avevano organizzato una spedizione massiccia per rubare quanti più agrumi possibili, ma non hanno fatto i conti con il servizio di guardiania che ha fatto a sua volta intervenire le pattuglie delle volanti, giusto in tempo per sventare il furto. L'episodio è venuto la scorsa notte nelle campagne di Contrada Mottava, nella periferia sud del capologo. Due vigilantes, durante un ordinario giro di controllo, hanno notato la recensione di un terreno agricolo di Velta e hanno così sospettato che fosse in corso un tentativo di rubare, in questo caso, arance. Un riscontro oggettivo l'hanno avuto osservando il terreno, che era solcato da tracce di gomma di autoveicoli passati di recente. I vigilantes hanno quindi lanciato l'allarme e dalla sala operativa della questura hanno disposto l'intervento e le pattuglie delle volanti. All'interno del giardino i polizotti hanno scoperto la presenza di ben cinque automobili cariche e con 181 cassette da 20 kg ciascuno di arance. Dei malviventi, però, nessuna traccia. Avendo notato l'arrivo dei polizotti, evidentemente hanno preferito scappare a piedi, facendo perdere le proprie tracce con il favore del buio, ma abbandonando le vetture che sono state sequestrate con il prezioso carico. Dalle verifiche dei documenti delle auto, gli investigatori presumono che malviventi possono essere arrivati a Siracusa dalla vicina Catania, dove erano evidentemente diretti se non si fosse verificato l'imprevisto. Tutte le arance sono state consegnate al legittimo proprietario del fondo. Salta l'approvazione del mutuo per portare l'illuminazione nelle zone periferiche di Palazzolo viene meno la maggioranza durante il Consiglio Comunale. Sentiamo. E' venuta a mancare la maggioranza in Consiglio Comunale che sosteneva il Sindaco Gallo a Palazzolo sul punto della modifica al DUP che prevedeva l'elettrificazione delle contrade periferiche attraverso l'accensione di un mutuo per 1.100.000 euro. Il progetto, molto dibattuto ieri sera nell'Aula Consiliare, ha riscontrato il parere favorevole di tutti i consiglieri presenti per la necessità di estendere l'illuminazione anche le zone periferiche della cittadina. Non hanno trovato approvazione invece le modalità di finanziamento proposte dall'Aggiunta che prevedeva il ricorso a un mutuo attraverso la Cassa Depositi e Prestiti per 1.100.000 euro. Il punto è stato discusso a lungo e si è concluso con la proposta dei consiglieri di portarlo nuovamente in Consiglio la prossima settimana, escludendo però il ricorso al mutuo e impegnando invece l'amministrazione a ricercare fonti di finanziamento a valere sul PNRR o altri finanziamenti nazionali o regionali. Esce dal gruppo di maggioranza il capogruppo consigliere di Fratelli d'Italia, Anna Maria Messina, che si è dichiarata indipendente. Tutti gli altri consiglieri sono presi l'impegno di riportare il punto in Consiglio la prossima settimana, rimodulando la proposta senza l'accensione del mutuo che sarebbe gravato, secondo la maggioranza dei consiglieri, sulle tasche dei cittadini insieme col punto della variazione di bilancio che prevedeva con altri capitoli in entrata e in uscita la predisposizione dei capitoli inerenti proprio al mutuo. E sono state provate invece dal Consiglio Comunale i punti sul sostegno all'iniziativa di Coldiretti contro il cibo sintetico e lo schema di convenzione tra i comuni di Palazzolo, Canigattini, Buscemi e Cassero per aderire all'iniziativa di ricerca di personale con alta specializzazione con fondi statali. Restando sempre in tema della giornata di oggi 25 novembre dedicata alla lotta contro la violenza alle donne, vediamo adesso un progetto di Barbara e Chiara Catera insieme ad Angela Nobile presentano Non è colpa tua, è uno spettacolo proprio che vuole ricordare ancora una volta la lotta contro la violenza. Sentiamo. Non è colpa tua, è il titolo dello spettacolo contro la violenza sulle donne in programma questa sera al Teatro Comunale di Priolo Gargallo. Lo scopo è quello di far sentire la vicinanza a tutte quelle donne abusate, di sensibilizzare quanto più possibile verso la non violenza. Nasce dall'idea di voler divulgare sempre di più il messaggio che vuole dire non alla violenza, stop alla violenza sulle donne, un modo per far sì che si parli di questo messaggio non solamente il 25 novembre ma tutti i giorni l'anno. Qual è il messaggio invece che volete lanciare? Il messaggio è far conoscere questo argomento a tutti, educare i bambini già da piccoli ad affrontare in modo diverso questa educazione. Io il messaggio personalmente che voglio mandare è invitare tutti alla gentilezza. La gentilezza a casa, nella vita quotidiana, verso i bambini, verso le nostre compagne e verso tutti. Ogni forma d'arte è importante per lanciare messaggi, nel caso specifico? Allora nel caso specifico più che mai, perché questa sera si fonderà il pubblico al palcoscenico, cioè a un certo punto non ci sarà più distinzione tra noi che siamo lì e chi è giù, perché quello che accade, quindi la violenza nei confronti delle donne, mi permette di dire anche la violenza in generale, ogni forma di violenza fisica e psicologica che magari è un po' più subdola perché non è chiaramente evidente, è un fatto di tutti, anche di quelli che sono convinti che non la stanno vivendo, che non gli appartiene. L'evento di Ligia ha segnato una storia che vivono molte donne come Ligia. C'è chi ha il coraggio di denunciare chi, come Ligia, pensi che quello che le è accaduto non possa mai succedere proprio a lei. Quindi questo purtroppo ha segnato quello che nella realtà oggi vivono tante donne all'interno delle loro case. È una lezione che è stata recepita, secondo te? Allora, se dobbiamo parlare proprio di recepito, posso dirti che molte donne, in base a quello che vivono loro dentro le loro famiglie, per quello che comunque hanno vissuto insieme a noi, come tutta Siracusa che ci è stata vicino per questa vicenda di Ligia, molte hanno capito che quello che è successo ad Ligia poteva succedere anche a loro. Due ciclisti ammatoriali sono stati premiati dal sindaco di Francofonte per essersi laureati campioni regionali. Ieri sera, nell'aula consigliare del comune di Francofonte, ha avuto luogo la cerimonia di consegna dei riconoscimenti ai campioni regionali di ciclismo su strada, Pino Larocca e Maria Migliore. A fare gli onori di casa sono stati il sindaco Daniele Lentini e l'assessore allo sport Giovanni di De Petro. perché vincitori della Coppa Sicilia di ciclismo su strada. È un trattato importante per loro personalmente e anche per noi perché sono due francofondesi, una acquisita ma Pino francofondese Doc, mio amico, da una vita, quindi sono particolarmente contento e orgoglioso di aver fatto questo. Complimenti a loro, determinazione, impegno li ha portati a questo grande successo e questa è una cosa molto importante e stasera li abbiamo voluti cominciare. Però volevo dire che loro ci hanno donato il premio che hanno ritirato entrambi per aver vinto e per questo successo che hanno ottenuto della Coppa Sicilia e l'hanno voluto donare con il cuore a Francofonte, non all'amministrazione comunale perché è quella temporanea, ma al paese di Francofonte e infatti questo gli fa onore perché Pino ha voluto farlo, questo donare la sua città natale e dove lui è praticamente attaccato, diciamo ed emozionato costantemente. Grazie Daniele, io ti ringrazio veramente, sono molto orgoglioso e felice di essere nella mia città non come passerella di premiazione ma veramente ricevere con grande affetto un riconoscimento sportivo per la valorizzazione del territorio della mia città ed è una cosa diversa rispetto a quella di avere dovuto ottenere un premio che può essere freddezza di un risultato buonissimo. A conclusione della cerimonia Pino Arrocca e la moglie Maria Migliore hanno consegnato al sindaco Daniele Lentini e all'assessore allo sport Giovanni De Petro il loro premio conseguito nelle Gran Galà di Coppa Sicilia a Castel di Tusa. Restiamo in tema di sport, andiamo a parlare di pallannuoto Serie A1, l'Ortigia in trasferta Trieste per continuare a veleggiare al primo posto con le grandi del campionato. Entrarà nel vivo la stagione dell'Ortigia attesa da alcuni match verità. Si comincia domani pomeriggio, inizio alle 15.45 con il difficile impegno esterno contro la pallannuoto Trieste che precede il match di andata degli ottavi di finale di Eurocup previsto per mercoledì a Savona. I ragazzi di Piccardo arrivano alla vigilia di questa trasferta non senza problemi a causa della ben nota situazione della piscina a Caldarella e delle difficoltà di allenarsi quindi negli ultimi giorni. A ciò si aggiunge l'assenza di Pippo Ferrero, ancora infortunato. La buona nuova è che è stato recuperato Simone Rossi, il quale seppure non ancora al meglio farà parte dei 13 disponibili per la trasferta a Trieste. Piscina tradizionalmente sfavorevole per i biancoverdi che sono usciti vittoriosi solo due volte nelle complessive sette sfide giocate alla Bruno Bianchi. Alla vigilia il tecnico dell'Ortigia Stefano Piccardo, sotto linee problemi vissuti in quest'ultimo periodo. Nelle ultime due settimane dice abbiamo avuto molte difficoltà perché la temperatura dell'acqua è scesa notevolmente fino a precipitare negli ultimi giorni. Siamo stati costretti a spostarci in piscine che si trovano nella provincia. Ciò detto a Trieste mancherà sicuramente Ferrero mentre rientrerà Rossi che stringerà i denti per dare una mano alla squadra. L'allenatore biancoverdi analizza l'avversario di domani e le insidie contro le quali l'Ortigia dovrà lottare. Affrontiamo, dice, una squadra che lo scorso anno ha sfiorato la finale Scudetto dopo averci battuto meritatamente a casa loro. Una formazione che sia ulteriormente rinforzata e che sicuramente avrei preferito affrontare avendo tutti gli uomini a disposizione e al meglio della forma. Per Alessandro Carnesecchi, mancina dell'Ortigia, la possibilità di ottenere un risultato positivo dipenderà soprattutto dalla mentalità e dall'approccio. Conosciamo i loro punti di forza, dice, quindi è una sfida alla pari da questo punto di vista. Dopo lo sport diamo adesso spazio alle previsioni meteo. Vediamo che tempo farà. Ben trovati in un aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato, quando un ciclone mediterraneo l'ennesimo di questa settimana impegnerà tutto il centro-sud, eccolo qui isolato con l'alta pressione tutto attorno sull'Europa centrale e occidentale, sarà fuoriero di piogge rovesci al centro-sud. Nel dettaglio la nuvolosità parecchia sulle regioni centro-meridionali, delle aperture del cielo invece al nord, qui non saremo interessati dalle precipitazioni che invece ritroveremo sui settori centro-meridionali della nostra penisola. In sintesi la mappa dell'Italia con l'instabilità e il maltempo, specie dal Lazio, dall'Abruzzo verso sud, venti in rotazione ciclonica, mari molto mossi e agitati, il tirreno meridionale e lo Ionio. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo. Con il Meteo si conclude il nostro telegiornale, noi vi ringraziamo per l'ascolto dedicato e vi ricordiamo che dopo il Tg andrà in onda il consueto appuntamento con Informare. La puntata è dedicata al 25 novembre, quindi giornata contro la violenza alle donne, ospite in studio del direttore Francesco Nania, il capitano Federico Lanzara, comandante dei carabinieri della Compagnia di Noto, che appunto fa un'analisi e soprattutto racconta degli innumerevoli interventi per tutelare le donne. durante la puntata di Informare anche la versione integrale dell'intervista ad Emanuela Petruzzelli, donna vittima di violenza, da anni lotta per avere giustizia rispetto la sua storia e anche per attirare sempre di più l'attenzione delle istituzioni per tutelare davvero con atti concreti le donne vittime di violenza, con aiuti economici e tanto altro. questo appunto è quello che ha dichiarato durante l'intervista, tutto questo potete vederlo tra poco nella puntata di Informare. Per noi è tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci. Grazie per aver guardato il video, grazie per aver guardato il video. Grazie. Grazie.